In barba la crisi economica, le aziende italiane e soprattutto del sud non solo non si arrendono, ma anzi provano a rilanciarsi e per farlo si rivolgono a chi in questo momento offre finanziamenti attraverso i contratti di sviluppo. In appena due settimane sono arrivate a Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che gestisce la misura per conto del Ministero dello Sviluppo, oltre 120 domande di finanziamento per un totale di investimenti pari a 6 miliardi di euro. E la parte da Leone in questo momento la fa proprio il sud, a cui sono destinati 400 milioni di euro di risorse disponibili e da cui è arrivato il 70% delle domande. La Puglia ne ha presentate 20. Confindustria Puglia e Invitalia hanno riunito a Bari gli addetti ai lavori nel convegno contratti di sviluppo. Abbiamo programmato questo incontro proprio per approfondire tutti quelli che sono i risvolti operativi, per dare degli strumenti operativi alle imprese, imprese che comunque hanno risposto in modo importante a quella che è la richiesta che tutto lo Stato, tutta la Nazione, tutta la società gli fa, che è quella di continuare ad investire, soprattutto in un momento di crisi. Chi potrà accedere a questi contratti di sviluppo? Per la prima volta ci sono oltre le aziende industriali anche le aziende turistiche, questa è una novità, le aziende del commercio, questa pure è un'altra novità, è in misura minore come soglia di investimento minimo anche le imprese agricole. Si privilegiano una serie di indicatori con delle premialità che sono il rispetto dell'ambiente, che sono tanti altri cofinanziamenti da parte della Regione. Questo è l'argomento di discussione forse più interessante di questa giornata. Ed è proprio su questo punto che l'assessora Loredana Capone, difendendo l'operato della Regione Puglia e dei tanti imprenditori pugliesi, ha sottolineato l'importanza di investire in logistica e infrastrutture, oltre che in vigilanza nella presentazione delle domande che, come confermato da Domenico Arcuri, l'amministratore delegato di Invitalia, spesso sembrano voler approfittare degli incentivi in maniera non lecita. E' importante inoltre, ha detto Capone, riempire di contenuto le aziende, spesso troppo occupate a investire nel contenitore. Le idee vincenti spesso nascono nei garage, ha dichiarato, e poi, grazie ai finanziamenti, diventano progetti da mettere in cantiere.